Ma sapete quanti kg di rifiuti ogni cittadino italiano produce in media al giorno? Fate mente locale e pensate, durante una normale giornata da mattina a sera a quanti rifiuti producete? Beh, secondo i dati del rapporto rifiuti urbani ISPRA edizione 2022, ogni cittadino italiano produce in media 1,37 kg di rifiuti al giorno, che diventano quindi 502 kg di rifiuti all'anno, un valore che si è riallineato a livello precedente alla pandemia. In particolare, la regione che registra la produzione pro capita più elevata è l'Emilia-Romagna, con una media di 641 kg per abitante all'anno, che rimane stabile rispetto all'anno precedente. E quanti di questi rifiuti vengono differenziati? Sempre secondo il rapporto circa il 64%, quasi come la percentuale di persone che guarda il video ed è iscritta al canale. Visto quante cose si imparano a seguire Ingegneria Italia?